Bene cari amici e telespettatori, è il tempo di estate, siamo in estate 2024, allora abbiamo il nuovo programma estivo 2024, estate 2024, condotto da Stefano Grigio, questo centro produzione video che realizza ogni anno in produzione video. Siamo in diretta tutti i giorni, estate 2024, con Stefano Grigio, che sarai io. Bene, allora, abbiamo la nostra grafica, ho scritto estate 2024, con Stefano Grigio, e ne vedrete delle belle, ci colleghiamo un attimino con tante situazioni, con il ricordo sempre di Raffaella Caramma, dietro di me c'è il monitor, che c'è anche dei videoclip molto belli, vestiti del 2024. Va bene, allora, ho tutti i giorni su YouTube e codiviso su Facebook, estate 2024, un programma di Stefano Grigio, non faremo le dirette estive perché siamo in vacanza, su WhatsApp salutiamo tutti gli amici, non chiamate i numeri su WhatsApp e Facebook di Stefano Grigio perché ci sarà il programma registrato in replica su questa emittenza televisiva, con il ricordo di Raffaella e poi ci sarà il programma registrato in replica.